Ampiamente previsto il mondiale di Formula 1 2023 si è concluso di sabato nella sprint race del Qatar che si è appena conclusa infatti Max Verstappen ha appena vinto il suo terzo titolo del mondo consecutivo in un mondiale altamente dominato e probabilmente uno dei più platonici degli ultimi anni. Un mondiale di Verstappen che appunto non è mai stato in discussione con una Red Bull assolutamente dominante che ha vinto tutte le gare di fatto tranne l'ultima di Singapore con la Ferrari protagonista. Verstappen di per sé ne ha vinte di fatto tutte tranne tre e un mondiale che praticamente non è mai stato in discussione. Eppure in questa gara sprint del Qatar qualche spunto c'è stato perché comunque abbiamo visto una McLaren da corsa, una Ferrari che ha sfruttato una buonissima partenza e un Verstappen sorgnone in una gara sprint che ha visto comunque tanti incidenti e tanto macello a cominciare dalla partenza. Una partenza molto interessante perché nonostante i 19 giri della gara sprint del Qatar molti piloti hanno scelto di diversificare le strategie cioè che infatti come per esempio lo stesso Verstappen o Oscar Piastri è partito con le gomme medie mentre alcuni piloti come George Russell o le Ferrari sono partiti con le gomme morbide nonostante appunto questa pista catariota sia la sua seconda edizione una pista pressoché nuova in un circuito che ha comunque regato molte emozioni soprattutto per il fatto che appena un pilota andava fuori traiettoria per la sabbia e quindi il poco grip si perdevano un sacco di posizioni. Gara sprint caratterizzata da tanti sorpassi all'esterno vedi per esempio la grande rimonte di Norris terza al traguardo ma soprattutto causata da grandissimi incidenti il più importante è quello che avviene di fatto a due terzi della gara sprint in una sorta di sandwich che coinvolge Ocon, Hulkenberg e Perez che finisce di fatto per le terre e questo incidente di fatto consegna Verstappen il titolo del mondo ancora prima che tagliasse il traguardo. Ripeto il mondiale 2023 è altamente platonico fa il paio secondo me con i mondiali ai tempi di Hamilton e Bottas dove di fatto un vero avversario per il campione del mondo di turno non c'era questo rientra nei mondiali ancora più platonici e da un certo punto di vista storico perché Verstappen quando va a vincere questo tipo di mondiale va a eguagliare Michael Schumacher che vinse con sei gare di anticipo come appunto nel 2002 all'epoca della Ferrari iperdominante. Nella dinamica dell'incidente invece di Perez di fatto è un grande incidente di gara con di fatto un three wide Ocon all'interno la Haas di Hulkenberg è in mezza sandwich, Perez è all'esterno, la carambola appunto ovviamente sfavorisce la Red Bull sfigata perché se succede qualcosa in Red Bull succede sempre e soltanto e solo a Sergio Perez e di fatto appunto il messicano che per avere qualche mezza chance di posizionare il titolo alla domenica di Verstappen doveva arrivare a punti di fatto finisce per le terre after the music e di conseguenza Verstappen è campione del mondo secondo al traguardo in una gara peraltro vinta da Oscar Piastri che dunque si consacra ancora una volta come uno dei più grandi talenti della Formula 1 presente e futura per una gara sprint del Qatar che qualche valore comunque lo ha regalato perché abbiamo visto una McLaren da corsa che sarà importante per le sei gare finali del campionato gara di domani compresa è appunto il secondo posto di Verstappen che certifica ufficialmente il terzo titolo del mondo per l'olandese il secondo dominato consecutivo a sto giro un vero avversario non c'era perché era il suo compagno di squadra che comunque ha vinto due delle prime quattro gare poi è sparito complice problemi tecnici complice anche errori del pilota messicano Verstappen di fatto non aveva niente nessuno che lo poteva fermare e adesso si sticareggia soltanto per i record e per la storia con questa gara sprint sono 407 i punti per Max Verstappen Perez finisce a 223 francamente un dominio del genere io non me lo ricordo pound for pound appunto lo possiamo paragonare a quel famoso mondiale del 2002 con Schumacher che vinse contro chiunque scherzando gli avversari con sei gare d'anticipo ripeto mi ricorda tantissimo anche i mondiali che Hamilton vinceva con Bottas in Mercedes quindi mondiali senza nessun avversario vero e proprio con quelli che potevano competere che però avevano delle macchine inferiori e questo è veramente qualcosa di emblematico in generale per tutta la Red Bull a maggior ragione per Max Verstappen che di base è un fenomeno solo lui solo lui sta facendo guidare questa Red Bull nel migliore dei modi e anche oggi in Qatar la qualificazione sprint ha visto un Perez after the music come praticamente tutto il campionato Perez secondo me andrà a ritirarsi a termine di questa stagione perché tutto l'anno che comunque le prende da più o meno chiunque non solo da Verstappen già è frustrante prenderla da Verstappen figuriamoci da chiunque altro Verstappen comunque vince un titolo che era praticamente scontato fin dalle prime trasferte extra europee perché già da Miami slash Monte Carlo si era capito che il mondiale andava a Red Bull sicuramente e ancora più certamente a Max Verstappen tutti gli altri finiscono after the music piastri con questa prima vittoria che formalmente è una vittoria ma che nelle statistiche conta fino a un certo punto sale a 65 punti in classifica come di fatto il miglior rookie dell'anno senza se e senza ma Norris con questo terzo posto nella sprint arriva a 121 punti e attenzione perché domani le McLaren saranno da corsa discrete comunque le Ferrari che partivano 6 settima e finiscono comunque nei punti della sprint George Russell ha fatto una grande e bella parte di gara invece finisce evidentemente in lotta con le Ferrari come giusto che sia insomma qualche valore si è visto il favorito per domani è Max Verstappen che ovviamente ha vinto il titolo del mondo 2023 terzo consecutivo quello del 2021 ce lo ricordiamo tutti che era stato un titolo combattuto gli altri due francamente sono stati parecchio dominati il secondo c'era Leclerc che poteva fare un po' di spoiler qui e lì ma da un certo punto in poi Leclerc è sparito qui francamente non c'è mai stata discussione e dunque è giusto comunque rendere omaggio al terzo titolo del mondo consecutivo per Max Verstappen che appunto ha vinto il mondiale di sabato e non succedeva praticamente nei tempi del mondiale di Nigel Mansell vedremo se Verstappen adesso farà anche una volta il cannibale e andrà a vincere le rimanenti gare che appunto rimangono al termine sono 6 compresa quella di domani del Qatar possibili spoiler per il campionato per le gare di tappa la McLaren sicuramente forse la Mercedes in qualche pista veloce forse la stessa Ferrari Redi Viva in qualche pista veloce vedremo Verstappen rimane comunque l'uomo da battere nonostante appunto la Red Bull corra con un pilota e mezzo perché Perez è a dir poco altrenante le altre scuterie corrono con almeno due piloti ma Verstappen comunque avrà certo ancora modo di dimostrare che sarà il più forte non che ce ne fosse bisogno in questo mondiale la streak di vittoria consecutiva ha parlato per lui in un mondiale ripeto anche una volta platonico ma che comunque è giusto comunque celebrare per il pilota olandese che chissà quanta fame avrà ancora in questo mondiale 2023 fatemi vedere cosa ne pensate dunque di questo mondiale abbastanza orrendo da vedere come spettatore e tifoso McLaren se non forse in quest'ultima parte di stagione dove appunto la mia scuderia potrebbe fare qualche podio e speriamo qualche vittoria da tifosi Ferrari come l'avete vista da appassionati come avete visto questo dominio del pilota olandese il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao